Vascorossi a Bologna è di casa, il suo legame con la città dove ha scelto di vivere e dove ha sede il suo studio non si è mai interrotto. La sua musica è tornata nel cuore di Bologna proprio perché poche settimane fa, alla fine del 2020, quando ha deciso di girare in Piazza Maggiore il video della nuova canzone in uscita il primo gennaio del 2021. Bologna è orgogliosa e grata di essere stata palco nella vita e nei tour di questo grande artista. In segno di profonda stima per la sua straordinaria carriera, il signor sindaco Virginio Merola conferisce a Vascorossi il Nettuno d'Oro. Grazie, grazie al sindaco Merola, grazie a tutta la giunta, l'assessore per avermi dato questa grande onorificenza. Sono onorato e felice per ricevere questo premio dalla città che mi ha accolto, mi ha nutrito, nutrito la mia anima e il mio spirito, nella quale sono cresciuto, nella quale ho vissuto molte vite, quasi sette come gatti, diverse, varie, diverse, nella quale vivo e che alla fine mi ha adottato. Sono arrivato a Bologna che avevo 16 anni, a 16 anni, quindi per frequentare l'istituto tecnico Luigi Tanari, che era l'istituto tecnico commerciale per diventare ragionieri e lì ho scoperto la mia vena artistica, incredibile perché è strano, potrebbe sembrare strano, invece proprio lì, grazie al professor Farinelli che è stato veramente una figura molto importante per me e anche a un gruppo di amici con i quali avevamo fatto un gruppo di teatro, quindi il teatro, poi tutti, insomma, il periodo degli anni 70, Bologna, cioè i vari fermenti culturali, insomma, ho praticamente vissuto tutto quel periodo e nel periodo mi sono, mi sono, diciamo così, mi sono, mi sono, mi sono perso, questo è l'insuoso che dicevo. Ecco, dico, il teatro, poi le prime canzoni, perché ho cominciato a scrivere appunto le prime canzoni durante quel periodo io, a 16, 17 anni, 18, naturalmente le scrivevo per divertimento, non pensavo di fare questo mestiere, tra virgolette, proprio non lo immaginavo neanche lontanamente. E invece da lì, poi il primo gruppo, organizzato da, con un gruppo di amici nella, ricordo nella, una cantina che ci aveva dato Bibi Ballandi, quindi un altro personaggio fondamentale per me, per la mia vita artistica, e il primo gruppo, il primo concerto, il primo concerto in Piazza Maggiore, Bologna. Dunque, da Bologna è partita la mia carriera artistica di cantautore e poi di rocker. E la mia storia musicale rock nasce proprio dalla Piazza, dalla Piazza Maggiore, perché lì ho fatto il primo concerto, avevo già fatto due dischi, ma in realtà le avevo fatte un po' così per fortuna, per scherzo, per gioco, poi invece dal concerto è cominciata a venire fuori la, la voglia proprio di comunicare, la voglia di conquistare il cuore della gente, con le canzoni, con le parole, con la musica e con lo spettacolo. Quindi quello che volevo fare era quello, arrivare al cuore della gente con le mie canzoni, cioè commuovere, provocare, emozionare, insomma, consolare anche a volte. Poi in pratica è quello che faccio sempre quando scrivo, in realtà scrivo per consolare me stesso, scrivo raccontando dei problemi miei personali che ho io, pensavo fossero solo miei, poi ho scoperto che invece in realtà siamo molto più simili tutti perché li abbiamo tutti dentro un po'. Quelli che si riconoscono nelle canzoni di Vasco Rossi è perché chiaramente hanno dentro le stesse, diciamo, le stesse insofferenze, nervosismi, tensioni, insicurezze che ho io e che ho cominciato a esprimere pensando in realtà di parlare da solo, invece mi sono accorto che c'è un sacco di gente, è come me, questo mi ha confortato anche molto perché quando si condivide, diciamo, un problema che tu hai, se ce l'hai da solo pensi, insomma stai male perché pensi davvero solo te. Nel momento che lo confide una persona e vedi che l'altro ce l'ha anche lui, ci si sente già un po' meglio perché non ci si sente più soli, questo è fondamentale secondo me. Bene, quindi da Bologna è partita la mia carriera artistica, era il 26 maggio del 1979 e lì in piazza di fronte alla Basilica in un palchettino molto piccolo di fianco, dopo un comizio, feci un primo concerto, mi aspettavo che naturalmente quelli che frequentavano la piazza in quei tempi, che erano i frichettoni un po', no? Quelli che poi conoscevo anche io, che ho frequentato anche quelli del Piuso, che mi avrebbero tirato qualcosa, cioè mi avrebbero come io tirato delle lattine, insomma, invece no, si fecero i cavoli loro, si misero seduti sulla scalinata della chiesa senza di niente e sotto c'era un gruppo di, diciamo, di amici più che altro, eravamo molti di più sul palco, secondo me che giù dal palco, in realtà, però insomma lì è cominciata la storia. Ecco, ci sono ritornato adesso, qualche giorno fa, la piazza è sempre straordinaria, ancora uno scenario fantastico, ci sono tornato per girare il nuovo video della nuova canzone. Perché questo? Perché la piazza, tra l'altro vuota, deserta, insomma, bagnata di notte con un uomo che canta la sua disperata canzone d'amore, buttata via, insomma, mi sembrava una bellissima storia, anche perché la città, anche perché la piazza è un fantastico palcoscenico virtuale, è diventato uno straordinario palcoscenico virtuale, è uno speciale set cinematografico magico per la scena di un film, il mio nuovo film, che parte da una canzone d'amore buttata via.